Tra qualche giorno, il 26 ottobre, si terrà presso primo piano cooperativo dei giornalisti il secondo corso di YouTube Marketing, ma non voglio fare pubblicità in questo video. Vorrei però mettere l'accento in attesa del corso su alcune cose che sto vedendo in giro da altri colleghi che stanno iniziando a fare giustamente video marketing. Allora, il primo consiglio è buttatevi, quindi va benissimo, sperimentate, giocate, cambiate inquadratura, spostatevi da una parte dall'altra, cambiate le luci, eccetera. Però il consiglio fondamentale che voglio darvi in realtà sono alcuni punti da vedere prima di andare a realizzare dei video. Quindi il primo video, il secondo, il terzo, fateli anche brutti e se volete pubblicateli che servono un po' anche a fare la vostra gavetta, a rodare un pochino. La cosa fondamentale è l'inquadratura. L'inquadratura è quella che vedete, io sono al centro di inquadratura, a volte si usa l'inquadratura con il soggetto messo laterale in modo tale da lasciare uno spazio qui dove aggiungere delle scritte oppure dall'altra parte, anche in questo caso, va benissimo. La cosa importante è che la zona sia mediamente illuminata, che abbiate una buona illuminazione del viso. Un faro sparato in faccia non è l'ideale. Ho visto dei video dove il personaggio era proprio flashato, il video era terribile. L'altra cosa importante è lo sfondo che vedi dietro. Deve essere quanto meno gradevole. Una parete bianca non sempre piace. Una zona troppo confusa non sempre piace. Io ho scelto questo sfondo all'interno del coworker, dove mi trovo di coworker. L'altra cosa importante è l'audio. Dotatevi di un microfono, un microfono con una qualità buona, perché se l'audio è cattivo, se sentite l'umore di sottofondo o vociare e così via, il video perde un po' di efficacia. Questi sono i primi consigli in assoluto che poi darò anche all'interno del corso del 26 ottobre. Quindi audio, fondo, importantissimo. Luci, ben illuminati, non con la luce che vi cade dall'alto o dal basso o sparata in faccia. Queste sono le prime tre cose. L'altra cosa è non fate video troppo lunghi, quindi due minuti e mezzo, tre minuti, cinque minuti se avete molto da dire, ma sappiate che comunque i tempi si stringono. Adesso anche Instagram sta dando molto spazio al video e questo è molto utile perché in effetti un gran pubblico si è spostato da Facebook a Instagram. L'altra cosa da tenere conto è appunto il formato di video. Instagram preferisce un formato verticale invece che orizzontale, Facebook lo preferisce orizzontale, così anche YouTube e LinkedIn. Dovete fare attenzione a dove volete poi pubblicare i vostri video. Ecco, questi sono i primi consigli banali se volete, ma fondamentali per poter operare. Consiglio che vi do, continuate a seguire il mio canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, condividete il video, condividete, 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 e mettete mi piace e commentate. Vi aspetto al prossimo video. Grazie, ciao. Vi aspetto anche il 26 ottobre a proposito. Ciao.